Anche questa domenica sono andati in onda su Rai 1 i due nuovi episodi della serie televisiva Noi, trasposizione italiana della ben più famosa serie americana This Is Us. Devo dire che anche queste due nuove puntate mi siano piaciute, perché seppur non abbia visto l'originale, che in tanti mi avete consigliato e non metto in dubbio possa essere superiore, devo dire che mi sia appassionato alle storie che vengono raccontate. Mi piace molto come si alterni in questo ping pong dolce e delicato il passato al presente, come ci venga raccontata la famiglia Peirò. Sia per quanto riguarda il padre e la madre dei nostri tre futuri figli, e cioè il nostro lino guanciale con la nostra Aurora Ruffino, Pietro e Rebecca, ci spostiamo nel 1982 quando l'Italia vinse i mondiali e poi allo stesso tempo ci troviamo nella contemporaneità tra Milano e Torino, ma anche Roma, perché ricordiamo che Claudio si trasferisce da Roma a Milano, il nostro Daniele Liviocone, il mio caro amico di cui vi parlai nella scorsa puntata, ci siamo diplomati insieme, uno dei motivi per cui ho scelto di vedere questa serie, perché volevo vedere il mio amico protagonista in una serie Rai, abita invece lui a Milano con sua moglie e le sue due figlie e allo stesso tempo noi riusciamo ad immergerci in questa storia così complicata, così ricca di eventi che scatenano delle situazioni particolari all'interno della famiglia Peirò. Questa recensione conterrà spoiler, quindi nel caso non aveste visto le due puntate, recuperatevele su Rai Play gratuitamente e poi tornate ad ascoltarmi. Che dire, sono due puntate molto concettualmente rilevanti, si parla di famiglia, si parla di morte, si parla di elaborazione del lutto, mi piace molto che ci sia questo rapporto che vada a intensificarsi tra il nostro Daniele Peirò e suo padre, un padre che ricordiamo lo avesse abbandonato in fasce di fronte ad una caserma e che ha incontrato dopo più di 30 anni. Sappiamo che abbia una malattia che lo porterà pian piano alla morte, però ecco che si vuol godere il nostro Daniele con il padre ritrovato ogni momento nel migliore dei modi da qui alla fine. E quindi anche il rapporto che si crea tra il nonno e le nipoti, cioè quella scena molto intensa in cui Claudio, che è stato preso per l'amleto di Shakespeare, è stato preso, è felice perché la sua vita è cambiata, ha detto addio alla vita da fiction perché lui lavorava in questa fiction di successo e quindi adesso deve vedere la vita da un'altra prospettiva, da attore televisivo ad attore teatrale. Si ritroverà a conoscere anche questa attrice protagonista dello spettacolo che inizialmente ti viene presentata come la classica ragazza con la puzza sotto il naso che ama il teatro e quindi deve snobbare qualsiasi forma d'arte più leggera e quindi se si pensa alla televisione no, ma quelle sono battute brutte, sono prive di anima, un po' snob, un po' dai gusti raffinati e colti andando ad escludere per pregiudizio qualsiasi altra cosa possa essere di intrattenimento e la combustione tra i due, beh è scoppiettante perché invece Claudio è uno che è sempre pronto a nascondere le sue gaffe con il sorriso, è sempre pronto a magari abbassare lo sguardo, rappresentare questo ragazzo timidone, tenerone che però fa breccia nel cuore della ragazza ed infatti si percepisce che tra i due possa nascere anche un'intesa perché sono così diversi da un lato c'è la dolcezza di Claudio, dall'altro invece c'è anche questa un po' arguzia ma anche questo cinismo nella protagonista dello spettacolo che li porterà a calcare i palcoscenici inizialmente di Roma e c'è quel momento in cui intanto cos'è successo fuori non lo so è caduta una trave non saprei si stanno facendo ancora i lavori fuori da casa mia quindi ogni tanto se sentite rumori botte schianti non preoccupatevi però ecco stavo dicendo c'è la scena in cui Claudio che va a trovare il suo fratellastro Daniele e sua moglie e le figlie una sera si mette d'accordo con il fratello allora io vado nell'hotel nella suite e tu guardi le bambine stai con con mio padre quindi ecco che durante quella serata il nostro Claudio avrebbe bisogno di ripetere la parte quindi è lì con il copione solo che con le bambine che inizialmente decidono di aiutarlo insieme al nonno con la voce dal doppiatore tra l'altro in una scena in cui l'hotello fa sentire proprio il nonno il vero protagonista perché è una scena in cui è uno spirito che si palesa per parlare allo stesso tempo lui sa che prima o poi dovrà morire ma che comunque vorrebbe che il suo ricordo venisse mantenuto e quindi si inizia a parlare della morte dei fantasmi ma quindi il nonno se prende quelle pasticche vuol dire che muore e c'è Claudio che tra l'altro l'attore che interpreta Claudio Dario Aita o Aita non so come si pronunci chiedo scusa si vede proprio che non sa come come interagire con le piccole quindi sorride cerca di districarsi dalla situazione però è difficile poi riceve la telefonata perché ha preso il copione della ragazza glielo deve riportare in teatro però ecco parlare della vita parlare della morte parlare dell'elaborazione del lutto è assolutamente uno dei concetti cardine di questa terza ma anche di questa quarta puntata mi piace poi il tutto come vada a spalleggiarsi con questo passato a Torino in cui con una fotografia totalmente diversa perché la fotografia degli anni 80 è molto più calda è molto più color pastello rispetto a quella della contemporaneità più fredda è più vivida quella degli anni 80 ed infatti vediamo la coppia composta da Pietro e Rebecca quando ancora non avevano figli quando durante la finale dei mondiali dell'82 si ritrovarono a discutere sul sulla maternità perché per il nostro Pietro era importante avere figli mentre per Rebecca sembrava quasi una croce e quindi due si sono messi a discutere proprio durante quella serata una serata che seppur sia partita male non solo poi ha portato ad un'Italia vincente ma anche ad una notte di passione lei si esibiva era una cantante la nostra Rebecca guarda che luna guarda che mare io che amo solo te e quindi tra un omaggio alla tradizione musicale italiana e l'altro e l'Italia che vince alla fine c'è questo scambio tra di loro di opinioni in cui si capisce che invece anch'essa anche la nostra Rebecca Aurora Ruffino voglia dei figli però in futuro ed è una scena sicuramente emozionante ed è una scena toccante così come mi è piaciuta molto la scena anche tra il nostro Daniele Livio e suo padre quando il padre parla del razzismo che si mette a parlare con il tizio alla reception del quartiere dove abita il nostro del condominio dove abita il nostro Daniele che lo guarda con con arroganza e quasi con pregiudizio sol perché è di colore c'è quel bel c'è quel bello scambio di opinioni tra padre e figlio quando sono al negozio per comprare dei vestiti perché Daniele vuole regalare dei vestiti al padre seppur siano costosi con il padre che guarda il prezzo e dice ma hai visto quanto costano stai tranquillo te li pago io però c'è questo bello scambio di battute secondo me in cui anche Daniele nonostante sia vissuto con una famiglia borghese agiata nonostante non gli sia mai mancato nulla sempre percepito da quando era bambino cosa significasse la diversità cosa significasse avere un colore diverso della pelle quanto questo per la gente potrebbe essere un problema e quindi non è che siccome ha vissuto una vita non da poveraccio comunque una vita in cui non gli è mai mancato nulla non abbia mai sofferto per le differenze che vedeva per come venisse trattato rispetto ad altri bambini e ne parla con il padre e dice che ad un certo punto bisogna anche accettarlo per non compromettere ancora di più ogni sacrificio che è stato fatto dai genitori per portarlo ad essere quel ragazzo così intelligente che è adesso che non bisogna mettersi lì a discutere che non bisogna mettersi lì a litigare altrimenti si peggiorerebbe sempre la situazione perché qualsiasi cosa accada tanto siamo noi quelli mal visti ed infatti guarda un po l'ha detto alla sicurezza come gli dice il padre ci sta osservando da quando siamo entrati e magari quando andrò a pagare a me mi chiederà il documento di identità mentre ad un bianco no e cosa vuoi fare mettertici a litigare ancora di più avrebbero il pretesto per dirti ehi ma come ti comporti e quindi ad associare il tuo comportamento al colore della pelle perché i bianchi non si comporterebbero così è una è una scena molto toccante in cui il mio amico livio è stato veramente molto molto bravo mi è piaciuto ancora di più che nelle prime due puntate ma così come mi è piaciuto anche nella scena all'hotel in cui la moglie la moglie pensa di essere incinta perché ha un ritardo poi invece non è così ma devo dire che tutti gli attori sono bravi anche la nostra claudia marsicano la nostra cate che continua questo rapporto amoroso per quanto beh si capisca che anche lei abbia dei traumi non detti abbia questa sì ossessione nei confronti del fratello ma anche nei confronti delle tradizioni lei ha sempre visto la partita di calcio con il padre e quindi quando il suo fidanzato la invita che anch'esso ha avuto un'esperienza difficile quando racconta quanto sia ingrassato perché la moglie lo abbia tradito e poi lasciato insomma catea fa anche una scenata di gelosia per poi capire che i problemi ce li abbiano tutti molto bella anche quella scena ma molto bravi gli attori che sono stati scelti da luca riguoli ed ecco che c'è il momento in cui si scopre perché lei volesse vedere le partite da sola proprio perché accanto a sé vuole avere il padre un padre morto e che ormai è in un urna e ci sono le ceneri quindi è molto toccante anche quel momento e sono molto curioso di vedere come possa proseguire questa serie perché sono già entrato in sintonia con i personaggi se già questa serie mi sta piacendo non immagino come possa essere quella originale che anche volendo ora come ora non ho tempo per recuperare ci sarebbero tantissimi prodotti che vorrei vedere ma adesso non ho proprio il tempo materiale quindi per ora mi soffermo su questa italiana anche perché ripeto c'è un mio caro amico come Livio Cone tra i protagonisti però posso solo dire che per ora si sta facendo un buon lavoro anche per far conoscere senz'altro al pubblico più generalista la serie originale quindi ripeto è una serie che per quanto possa essere ripresa scena per scena scena per scena da quel che mi è stato detto dall'originale ha una propria identità si parla comunque dell'italia si parla dei vizi dell'italia degli usi dell'italia pensiamo anche ripeto alla partita dell'82 la finale dei mondiali dell'82 e poi io che amo solo te guarda che luna guarda che mare quindi si trasla tutto in italia e si percepisce questa italianità è una serie che ripeto potrà essere imperfetta senz'altro una cosa che mi dà fastidio sono questi product placement al parmalat al latte quando lo vediamo inquadrato capisco è che questi sponsor questi product placement sono ovunque però diciamo che in questa terza puntata specialmente non è che sia proprio così delicato il product placement vediamo l'inquadratura del latte parmalat effettivamente è una pubblicità un po troppo esplicita però sono piccolezze per il resto tutti gli attori sono molto bravi mi sono piaciuti anche i momenti al fiume nella terza puntata già i bambini che crescono e che si pongono le prime domande e quindi la nostra cloud la nostra cat ma perché io non posso mangiare gli altri sì perché si vede che non è un problema di quanto mangi ma proprio un problema a livello ormonale un problema a livello interiore fisico cioè è nata con una problematica che la porti all'obesità e allo stesso tempo anche tra claudio e daniele ma perché abbiamo un colore della pelle diverso ma perché qui ma perché là sono domande che si pongono i bambini ma che soprattutto fanno star male il nostro daniele daniele che addirittura per non sentirsi così troppo intelligente continua a sbagliare anche a scuola piuttosto rasenta la sufficienza solo per far sì di essere simile agli altri mentre invece ha un'intelligenza fuori dal comune e lo dimostra quando parla con pietro lino guanciale sapendo calcolare in un attimo delle delle mattonelle da inserire in questa casa ipotetica ma dimostrando una lucidità incredibile si parla anche dei problemi di alcolismo di pietro che in un periodo della vita insieme ad aurora hanno vissuto insieme ad aurora ruffina rebecca però hanno vissuto dei momenti difficili perché lui era un alcolista perché comunque non era facile tirare su dei bambini allo stesso tempo mantenere lavoro e così via e quindi si è dato all'alcol questa serie sta raccontando pian piano tutto e sono curioso di vedere cosa possa accadere sono curioso di vedere come luca ribuoli riesca nelle prossime puntate a raccontarci questa storia che viene sceneggiata da sandro petraglia flaminia gressi e michela straniero vediamo un po' io posso solo dire di ritenermi soddisfatto vediamo cosa succederà è importante secondo me che anche in italia si facciano fiction di questo tipo in questo caso è un remake spero che ci siano sempre più idee originali come già è successo e che anche sulla rai si possa vedere queste serie che senza dover prendere da format già esistenti riescano ad imprimere una propria originalità ma nel frattempo io mi sto godendo questo noi che per quanto non sia originale mi sembra comunque che non sia solamente una sterile copia a carbone ma che qualcosa da dire ce l'abbia quindi fatemi sapere la vostra ho paura per l'incolumità del mio amico livio di daniele perché viene detto che ha avuto problemi di vista che da un certo punto della sua vita in poi una notte si è risvegliato senza più vedere niente i suoi occhi però funzionano bene ha fatto la visita che però questa cosa ci faccia intuire che potrebbero esserci dei problemi imminenti speriamo di no fatemi sapere ragazzi io vi attendo nella sezione commenti vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social che potreste abbonarvi al canale perché abbonandovi ricevereste tanti contenuti extra in cambio oltre alla normale programmazione quotidiana poi vi dico anche di aver partecipato ad una nuova puntata di facce di nerd da matioschi e il link è qua sotto quindi non perdetevela un caro saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video